Io in realtà avrei anche registrato le multisummon di questo evento, nonostante sia un portale bizzarri E ho trovato robina davvero davvero carina e ho avuto una reazione esagerata per Orochi Un Orochi che andremo a vedere a breve Il problema è solo uno Io uso un programma integrato del tablet, che è un semplicissimo tablet della Samsung Per registrare lo schermo Come sempre l'ho fatto Ho premuto salva Tutto a posto Non mi ha salvato la registrazione Ho fatto altre prove per cercare di capire quale potesse essere la causa Tutte salvate Questa volta no Ora, non mi dispiace il fatto che non mi abbia salvato Ma mi dispiace che non possa farvi vedere la reazione che ho avuto Non integrale, diciamo La reazione integrale per Orochi E per le prime due slottate nei quali ho trovato due yokai importantissimi per l'evento Quindi vi farò vedere giusto quello che ho trovato e la mia reazione a Goku Orochi San Gokushi Eccola qua I requisiti per prendere lo yokai speciale Non ci credo Non ci credo Ce l'ho fatta, l'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato, è lui È lui È lui È lui Goku Orochi di yokai San Gokushi Che bello Sì, un po' esagerata e purtroppo manca la parte in cui apro la sfera per vedere appunto quali yokai c'erano Ma è andata così E tra l'altro ho trovato anche Kaira nella stessa multi L'unica pecca è che non ho trovato nessuno che possa far danno a Komami Che è il mini boss di questo evento E tra le altre cose l'hanno messa a livello 20 riscattabile Dopo che hai superato 20 livelli dei suoi portali bizzarri Puoi riscattarla come premio Invece prima erano 35 livelli Quindi o hanno semplicemente abbassato il livello per il quale puoi riscattare lo yokai Oppure hanno alzato la difficoltà in alcuni livelli bizzarri prima Rispetto che non da quel 25-26 Mi dispiace solo di non potervi far vedere tutte le slottate che ho fatto Ero partito con 356.000 punti dato che si è farmato l'evento eccetera E invece ho fatto un bel 70.000 punti di slottate e nulla Ne ho fatte tante tante davvero Vabbè l'importante è che ho trovato Robina interessante All'ogni modo per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima Bye Bye Ciao Ciao